Stop la pubblicità. Usando il browser Brave questo è possibile. Ciao a tutti da CIG di Crypto Investing Guide. Il browser Brave che tratteremo adesso è un browser basato su tecnologia blockchain di Ethereum creato da Brendan Huyck creatore di javascript e di Mozilla Firefox e al suo interno è presente un token chiamato BAT. Questo token su base Ethereum è denominato anche Basic Attention Token è un token che permette di remunerare per la visualizzazione nel caso in cui voi abilitate il sistema di pagamento e di visualizzazione e di pagamento in BAT sia gli utenti che chi pubblica contenuti che chi pubblica pubblicità. Il sistema quindi è un sistema che abbraccia la privacy per gli utenti in toto poiché non è più possibile essere inondati di pubblicità anche non targetizzata cioè non perfetta per voi ma voi sarete coloro che decideranno se un sito è degno di visualizzare la pubblicità e quindi di ottenere da parte dei vostri guadagni in BAT. Il guadagno in BAT da parte dell'utente avviene se visualizza la pubblicità all'interno di un canale youtube o all'interno di un sito quindi le pubblicità che vengono visualizzate una volta al mese vi verranno erogati dei reward sotto forma di BAT se da voi prescelto come forma di pagamento ma potete scegliere anche altre modalità. Bene andiamo un attimo nel dettaglio per visualizzare il sistema BAT ha il sito basicattentiontoken.org da cui potete scaricare il Brave browser ma basato naturalmente su sistema google chrome quindi l'interfaccia è più o meno la stessa ha un'efficienza perché è open source è decentralizzato efficiente consuma meno batteria e meno energivoro perché non c'è la pubblicità continua che risucchia batteria dei vostri smartphone ebbene sì è possibile scaricarlo anche per smartphone oltre che per pc. Il BAT quindi questo token viene utilizzato per alcuni servizi e per esempio in preferenze è possibile visualizzare il sistema di pagamento Brave payment budget mensile saldo del conto e potete aggiungere fondi o meno perché l'utente come fa a visualizzare la pubblicità bene innanzitutto dovete per questo sito supponiamo che è un sito che mostrerà pubblicità e di vostro interesse verrete ripagati se abilitate questo editor editor dei pagamenti abilitato una volta poi cliccato il video di pagamenti quindi considerandolo con icona gialla cliccate sul simbolo di Brave sul simbolo di Brave potete decidere se bloccare gli annunci o mostrare gli annunci in questo caso riceverete i pagamenti per la pubblicità che vorrete vedere per un particolare canale o video o sito internet naturalmente potete bloccare gli script aggiuntivi gli HTTPS sold ovunque o bloccare phishing e malware quindi non c'è bisogno di software aggiuntivi ma basta direttamente Brave in quest'altra schermata vedete la sezione publish di basic attention token bene qui avete la possibilità di visualizzare i miei canali canale del sito internet e quello del canale youtube che hanno dei referral e che possono essere inviati su facebook o su su twitter per ottenere una registrazione da questo link refera voi potete scaricare il browser Brave e se naturalmente se se volete farlo perché permette a sottoscritto di ottenere qualche bat in più per fare questo è necessario che abilitate up hold up hold è un wallet un wallet di bitcoin può contenere i vostri euro i vostri dollari i vostri bat e anche un titolo che rispecchia l'andamento del sottostante oro ricordate che se volete guadagnare i bat dovete abilitare questo scudo e naturalmente visualizzare per certi canali la pubblicità cioè se voi abilitate la pubblicità di youtube riceverete una pubblicità idonea al vostro profilo di utente e per questo verrete remunerati una volta al mese e in base anche la quantità di attenzione che date a quel canale quindi se lo visualizzate per un minuto è chiaro che verrete ripagati corrispondentemente alla quantità di tempo dedicata con questo è tutto un like se vi è piaciuto questo video e alla prossima grazie ciao